Teramo è una città che ha molta fame di basket perché ha vissuto il basket ad altissimo livello fino a pochissime stagioni fa. Noi faremo il possibile per continuare questo processo di ricreare entusiasmo, riportare gente al palazzetto. È uno dei nostri obiettivi che va di pari passo con gli obiettivi sportivi, cioè dei risultati. È una squadra che avete allestito un po' all'ultimo momento perché chiaramente l'ammissione c'è stata in ritardo rispetto alle altre squadre. Questo può essere un ostacolo o è comunque qualcosa che si può superare? È stato un ostacolo all'inizio perché è arrivata la notizia dell'ammissione alla Serie B e c'erano due settimane per fare la squadra o poco più prima dell'inizio della preparazione. Siamo stati molto bravi perché col poco tempo a disposizione abbiamo, come dicevo anche stamattina, ottimizzato le risorse. Quindi siamo riusciti a fare la miglior squadra possibile in rapporto alle risorse economiche e di tempo che avevamo. Abbiamo optato per la conferma di Salamina, La Gioia e Gaeta come continuità con l'anno scorso. I cinque nuovi. Di nuovo c'è anche la guida tecnica, cosa ha spinto Piero Bianchi ad accettare questa destinazione? Si sono incontrate le nostre esigenze. Io ero fermo per cui avevo grande voglia di rientrare. Terramo aveva bisogno di un allenatore locale ma esperto. sull'esperienza c'è poco da dire perché gli anni passano e ho alle spalle 25 campionati ormai in carriera e quindi diciamo che le esigenze si sono incontrate nel punto giusto.